ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti in un nuovo vlog che sta comprando dei fiori ma cosa compri buonasera una rosa una rosa blu una rosa per una ragazza bello non facciamo spoiler si tanto lo vede quindi facciamo lo spoiler facciamo vedere accontenta quando lo vedrà è il suo primo appuntamento quindi è emozionato quanto sei emozionato da un infinito infinito è oltre l'infinito e basta verso l'infinito e oltre bene andiamo mi dirigo verso la macchina che c'è ciao ma quanto sei bello amore quanto sei bello amore anche tu sei bella andiamo 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 la perfezione si chiama davide marimberto che bello bello cioè dennis che è emozionato è la prima volta io non mi ascoltavo davvero fuori programma sono bellissime grazie ma queste sono bellissime grazie ho tutti i capelli ah stai riprendendo tutti i capelli non potevo non immoltare questo momento da quanto tempo è che vi sentite già da un po' diverse settimane non mi aspettavo così finalmente è arrivato questo momento ma io non sono come appaio sentito io sono sei più bella sei più bella è più bella è peggio grazie davvero è bene infatti ci piacciamo però non vuole essere sfruttata no no stai tranquilla eh certo devo fare devo tirarla adesso si vede il popolo del mare aspetta wow si vede il popolo del mare adesso se anche tu tu sei il tritone cosa sei tu adesso è il tuo tritone lui wow 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 Nessuno mi l'aveva mai fatto fare una tiravolta C'è sempre una prima volta Che carine Quella Quella Ma come sei emozionato E tu sei emozionata? Svolata? C'è la 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 Dai presto baciala Dai su baciala E' proprio presto Presto Beh direi che sta andando bene questo appuntamento Amore che dici tu? Si li vedo felici tutti e due Beh li vediamo affiatati Si Grazie 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 a tutti. Siamo tutti e due di Roma. No, perché... Mamma, cosa stai facendo? Luciana? Sirenetta? Sirenetta è il popolo del mare. No, aspetta. Ciao, Luciana. Sirenetta è il popolo del mare. No, è proprio di ribaltare. Ciao, Luciana. Aspetta che c'ho la cosa scocca. Ma basta, facciamo il video. Ma non lo so. Ma va il video? Eh, non l'ho capito. Ciao, Luciana. Ciao, zio Mimmo. Ma come? Tu ti stai fidanzando? Dici già zio Mimmo? Io comunque per adesso sono un po' combattuta. Perché comunque lo zio Mimmo... Vabbè, comunque com'è andato questo primo... Beh, devo dire che mi ha scopita, mi ha sorpresa. Quindi adesso sono un po' in crisi perché dico... Io sono monogra, ma adesso ti sceglo. Eh, scegli... Non così tu, zio Mimmo. Ebbè, io direi Dennis. Ci devo pensare. Ci devo pensare. Birbantella! Ragazzi, andiamo a vedere cosa stanno combinando quei due. Andiamo. Secondo voi scatta il bacio? Ci sono ancora accorti di me. Mi tengo a distanza. Vedete che sono distante. Solo zoom. No, vabbè! Cosa ho visto? No, scusa. Lo rifate, per favore? Cosa? Io vi ho visto, vi siete basati? Ma tu che ci fai? Ma perché devi... Certo, io sono sul vlog, scusa. Posso farlo? Ma anche quando non lo sappiamo. È più bello, è più bello perché... Non ci hai avvisati. È più bello perché è naturale. Ma non ci hai avvisati. Fa niente, non vi devo avvisare. Vi devo avvisare di qualcosa di bello. Ah, vabbè. Ma te dà fastidio? Eh, si è ripreso, eh. Però non sono esibizionista. Vabbè dai, pazienza. Vabbè dai, voglio vedere. Non ho visto meglio, voglio vedere meglio, scusa. Che cosa? Ci siamo andati un bacio. Eh, io non ho visto, scusa. Anche loro non hanno visto. Un bacio innocente, a stampa per conoscersi. Eh, eh, Grazie.